Sì, io volevo chiedere una curiosità, il fatto che il personaggio per la memoria ha un senso di vindicarsi per quello che gli accade, anche il fatto di ricordarsi tramite le fotografie della Polaroid, è un riferimento in qualche modo esplicito a Memento, visto che i personaggi principali hanno anche un obiettivo finale comune e entrambi hanno l'utilizzo della fotografia. Perché la scelta della perdita della memoria, cioè il killer perde la memoria? C'è un'associazione, si ricorda un film che si chiama Memento, un film americano che si chiama Memento, però la prima domanda è perché la perdita della memoria? c'è un'associazione immobili che stai capire, ma come si chiama Memento, se le senti un micro-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di, questa film pratica in un micro-di-di-di-di-di-di-di-di, e una storia in un micro-di-di-di-di-di-di-di-di, questo personaggio è sempre una persona che a molti anni ha avuto un passato molto intenso ha avuto un passato molto tempo e perché questo è fatto della memoria? Plante perché schiavano per la memoria? Esatto, io non mi ho parlato con un canale. Lo ti ho parlato con un gigante. In questo concreto, il più grande un grande problema, la responsabilità è un colore c'è un colore che passava a ponechtola quindi in fronte non è così è una cosa importante una cosa che ha fatto è una prima di un tipo di anni che si può affrontare il problema la colore perché lui era stata dotta da dietro, dalla testa quindi aveva solo la memoria non riceva a controlare le cause In cui in un caso, 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 in un certo caso certi cosa non può fare nulla è questo che vuole esprimere in una situazione in un certo senso 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 però il resto del fatto che a fai non mi chiede ma questo, io già mi chiede i non pensi che sia una nuocchia non ho capito la relazionale di un certo senso è questo senso non si può fare non è il secondo senso Il risultato molto pesante, oggi non è più... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete capito tutti, eh?